adesso sto provando l'hs4k ovvero profilo 265 e vediamo come va facciamo un giro sempre stesse impostazioni questo è il formato s 4k 100 frame al secondo vediamo come se la cava e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza danza e gira tutta la stanza mentre si danza danza e gira tutto intorno alla stanza